allora giugolo 15 grammi solita dia flash con il xav e danny spinning anche lui con una magica dia flash con un sahara però è vero Sì, che c'è. Ah si è ribaltato, un pesce ho preso, che cosa ho preso? Daniele, non hai capito, ma non hai capito, non la sentivo, guarda perché, guarda come l'ho preso, fagli una foto, dammi la pinza, guarda come l'ho preso, dicevo ma che cosa ho preso, ma che cosa ho preso, dimmi la canna, poverina sarà morta, guarda come c'ha, mi scanto a toccare l'elettracina, aspetta, guarda come cavolo l'ho preso, non è ancora viva, ma è incasato così, Daniele, l'ho incasata, io, oh, oddio mio, mi faceva una pena per com'era l'amata, dicevo ma che cosa ho preso, ma che cosa ho preso, ok, per favore, liberala, vai Daniele, che poverina, mamma mia, una lucertola si chiama questa, guarda che bella, vuoi toccare il pesciolino? dai, buttala a mare, buttala a mare, però non cadere tu, vai, lancialo, lancialo, buttala come fai con le pietre, bravo, bravo, puliscivi la mano, dai intanto, non pulisci questo straccio, hai visto? no, la canna no, il retino, no, il retino no, amore, gli serve, poi ti cade giù, bravissimo, dai, cucciolo, vieni qua adesso, bravo, bravo, andiamo, andiamo, ciao, 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 dirgli grazie, arrivederci, ciao, ciao Augen cutta, grazie, ciao, router, Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Dentice! No vabbè, sei da un quattro, a breve. Bello dentice! Dentici, c'è un 18. Guardami! Vai, torna quando sei almeno 7 minuti. Mamma mia, stupendo! Ehi! Che ho preso io? T'ho preso un saraco, un dentice e una piccola danuta. Ma il dentice l'ho rilasciato perché era quasi mezzo chilo. L'ho preso? Nooo! Slamato! I dentici, questo chilo? Sì! Si fa grande quello, non me lo frega! Ma questo chilo è giusto! Nooo! Peccato! Dentici era? Dentici, dentici! Bellino! Sì! Sì! Infatti... Come? Come? E niente, tu che stai facendo? Vado alla frecchia che è morta. E qua è con la tua chiesa a Baccellona. Vedi che ci... Vedi che ci sono posti di blocco a mio fratello l'hanno fermato al casello, l'hanno tenuto un'ora fermo. Quindi è per dire... Ma? Come? Come? Perché li hanno controllati tutte le cose, bolla, assicurazione, magari le gomme li hanno controllati. Io l'ho preso. Posso? Mmm... No! Non lo so quello che è. Ce l'ha accesa? Certo che ce l'ha accesa. Vedi tira... Non so che... Eccolo la galla? Dove l'ho preso? A un chilometro l'ho preso. Vada fermo! Sarà una lucertola. Gli sarò... Gli sarò fermato... Gli sarò fermato sopra la sua tana. Sì, sì, no pre... Bella! una frecchia, guarda che bella, bella rossa questa, bella l'esperto cacciatore di lucertole all'azione, eccolo bella ecco bella rossa questa bella grande Daniele prechi ha anche chiamato oh no è partita proviamo da seduta ragazzi c'è Daniele che devo prendere come si chiama come si chiama quello ti volevo dire ok sto dicendo questa ganna qua con il palamito con l'opa con l'opa a palamiti con le opere che chimio cristiano ho preso grosso Daniele grosso grosso fammi il video ma che cos'è una cernia una cernia vediamo il coppo una bella cernia ho preso questa è bella guarda come si è calato tutto cos'è la cernia è della famiglia bello guarda qua come si è mangiato tutto no 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 non me lo farei impizzare con il retino ok no 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 dal tuo lato bella questa qua non è una cernia questa qua non è una cernia comunque è una come la fa questo cazzo si chiama è della famiglia guarda come si è mangiato il mood un piccolo addotto guarda che bella aspetta ora ti devo liberare bella proprio bella guarda come si fa fai una foto dentro la bocca guarda se l'ha inghiottito guarda qua bello se l'è calato tutto ti ho detto che appena ora faceva la lenza guarda la lenza la lenza la lenza si l'ha tagliato tutto bella non è piccola guarda grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti